Io penso che stasera abbiamo fatto una buona partita, a livello tecnico e tattico siamo stati secondo me bravi nell'eseguire quello che volevamo fare, abbiamo alzato un pochino la pressione difensiva, abbiamo eseguito meglio in attacco senza farci prendere troppo dal panico, sotto pressione, siamo riusciti ad andare dove volevamo, purtroppo paghiamo le tre o quattro folate di transizione offensiva con canestro da tre punti di Reggio Emilia che ci hanno un po' disturbato. Tu se vuoi vincere Reggio Emilia devi avere più giocatori che ti danno qualcosa di positivo, che siano 40 punti, ossia un recupero, un rimbalzo, una difesa, però devo fare sempre qualcosa bene per vincere qua su questo campo con una squadra così forte. Secondo me la risposta abbiamo trovato positivo nell'atteggiamento della squadra, nell'attaccare, nell'essere più aggressivi, nel non farsi mettere troppo le maledosse, andare fuori dai giochi. Secondo me tra gara 1 e gara 2 c'è stata una grossissima differenza, non è bastato, uno può dire si però è perso, vabbè, paracanestro uno deve fare il meglio possibile, poi dopo può anche perdere, la sconfitta è contemplata nel gioco, non andiamo neanche a giocare, siamo 2 a 0, adesso andiamo ad Avellino, si riparta, ogni partita ha una storia a sé, ripeto, se siamo stati bravi un po', dobbiamo esserlo ancora un pochino di più, c'è una partita alla volta, questo ci insegna il playoff, d'altronde dopo Caserta eravamo già a retrocessi, adesso siamo già fuori, vediamo se siamo bravi a cambiare l'inerzia anche qua.